saluto a tutti ragazzi allora oggi vorrei parlare prima di tutto voglio rispondere a due domande e poi parleremo dei dark board lighting ok che sono le lucette interno al bersaglio allora ciao andrea mi ha chiesto salutami ciao andrea magro e mi ha chiesto come è stato quando hai fatto il tuo primo 180 il mio primo 180 il mio primo 180 è stato fatto con queste frecce qui non so se si vede qua che sono del 1827 ste frecce grandissima su 21 grammi anche se sono enormi beh mi ricordo che è stato emozionato fare primo 180 parliamo di tanti anni fa non ricordo bene neanche quando ma mi ricordo che ho fatto anche la foto da qualche parte dell'universo c'è anche quella foto del mio primo 180 non saprei dove fui contento perché insomma la prima volta è sempre figo insomma è bello anche oggi quando ne fai quando in partita lo fai è sempre bello anche se ormai diciamo c'è la verità ormai mi chiacchi se non lo faccio perché ne faccio abbastanza ultimamente quindi però è stato molto bello e poi diciamo che quando lo fai la prima volta per più facile che ti venga perché il problema è farlo la prima volta perché quando lo stai per quasi fare e fai magari 140 120 perché ti viene l'agitazione di rodillo di odio di odio di odio e non ti viene apposta per quello invece quando sei abituato è più tranquilla la cosa no quindi quando fai il primo poi più facile cominciano entrati anche gli altri piano piano perché ti sei tolto quell'ansia del doverlo fare credo che sia come la chiusura in nove io ho chiuso in dieci un paio di volte e quando arrivo con la decima freccia il braccio mi dice ho provato a cambiare anche a parte 180 il 141 fare 60 57 e doppio 12 l'ho sbagliato un paio di volte da buon faccio 45 fare doppio 36 come ultimo dopo 18 scusate come ultimo è l'ultima freccia la nona freccia che vabbè ma prima poi verrà lo so lo so anche mentre breve costa niente dirlo ragazzi c'è nato vicino tante volte spero prima o poi di farlo magari in partita sarebbe bellissimo ma non si sa mai nella vita poi volevo quindi è stato emozionante però chiaramente poi volevo rispondere a crazy power che mi ha fatto la domanda su facebook dicendomi che non sente più in mano le frecce come prima allora può essere quando noi giochiamo tanto tanto tempo con la stessa freccia è come se noi ci abituassimo a quella freccia quindi per cui non riusciamo più a percepirla come prima succede anche a me spesso prende si posa giù le frecce che si usa di solito e si fa un paio di leggo una freccia diversa io ad esempio che ho un bel po di frecce faccio una con una con l'altra con quest'altra cambio poi riprendo in mano le prime le risento uguali a meno a me capita così quindi prova magari sei un due tre paio di frecce diverse giochi un po con le altre poi ti rimetti a giocare con le frecce con cui stai meglio di solito spero di averti risposto un'altra cosa importante è che che volevo dire che il 180 è importante ragazzi ma la cosa più importante sono le chiusure quindi concentratevi tanto sulle chiusure più che sui 180 perché se voi fate 180 180 e poi non riuscite a chiudere ci mettete 20 frecce per chiudere non serve a niente il 180 capito 180 aiuta però la chiusura la cosa più importante quindi concentratevi senza ombra di dubbio sulla chiusura che la cosa più fondamentale poi se voi fate 140 140 140 140 poi chiudete subito il primo giro vale di più che non aver fatto 280 in un leg per dire bene andiamo ai dartboard lighting allora per tutti gli amici del canale telegram burdozer chat avevo fatto video un po di tempo fa dove vi facevo vedere questo dartboard qui che è quello da xq max che sono andato a casa di un mio amico e ce l'aveva e ho fatto un video in volante per quelli del canale telegram e l'ho trovato carino è tutto spugnoso diciamo l'ho trovato carino però mi sembrava come ho detto anche nel video di telegram poca luce non c'era tanta luce secondo me era una luce un po fievole fatto vedere sarà regolabile ma fondamentalmente non lo trovavo non lo trovo proprio bello da vedere carino da mettere però c'è qualche problema secondo me perché la cosa più importante la luce che si è carina non me ne frega quasi nulla ieri sera sono andato al ponte perché avevamo una partita con i bo boys che abbiamo vinto praticamente il buon giovanni che il padrone del bar al ponte ha fatto una pedana dove ha messo questo qua della wimau ok questo è una figata ragazzi è proprio bello questo ragazzi si attacca non si attacca al bull cioè non si attacca al bersaglio non si attacca neanche al come si chiama lì alla ciambella ma si attacca al muro quindi voi dovete avere un pannello di legno possibilmente sarebbe meglio perché sennò potete attaccare anche al muro però al muro non è il caso sotto un pannello di legno dove avete attaccato il bull questo qua attaccato sul pannello che già vedete qui qui non so se riuscite a vedere questi qua questi tre qua vanno direttamente attaccati al muro con una vitina no cioè alla cosa di legno dietro non presente come ho io che c'è il bersaglio attaccato al legno ecco per me sarebbe il top devo dire che si vede benissimo e largo ha una buona luce secondo me in questo momento dovessi scegliere tra questo e corona preferirei questo quindi voglio darvi questa questa cosa di questa cosa perché il corona è sicuramente bellissimo no però questa cosa vedete di queste lame che vanno all'interno si attaccano praticamente al bersaglio vediamo se si vede meglio in questa foto qua non lo fa vedere no comunque queste quali lo vedete qui no questa cosa va che si attacca al bersaglio mi danno un po noia e preferisco l'altro che tutto esterno vede questo qua è tutto esterno proprio è da meno fastidio secondo me a livello dell'occhio poi c'è anche quello della della unica la unica una parte nera un due tre perché c'è anche questi questi qua che sono proprio le cose grandi non li ho mai visti quindi non saprei dirvi come sono neanche questo l'ho mai visto non so come possa andare non mi piace molto come costruito nel senso che visibile visibile visivamente non mi piace e poi lo vedo troppo attaccato al bersaglio ok a differenza di quello della wimau che è proprio distante quindi voi guardate il bersaglio guardate solo il bersaglio e con la corona nera e la ciambella non vi accorgete neanche del del cerchio della wimau quindi secondo me credo che questo sia uno dei più buoni detto questo magari mi sbaglio magari non è così ma secondo il mio punto di vista è così che poi altra cosa da dire vediamo il wimau costa 64 65 sterline praticamente invece quello della target perché ci sono due versioni della tag se non sbaglio questo qua che è pari merito diciamo questo qua costa 119 6 120 sterline quindi fischia 120 sterline contro 65 una bella differenza no comunque detto questo penso di aver detto quello che devo dire per oggi ringrazio sempre tutti i nuovi iscritti ringrazio tutti quelli che mi scrivono ringrazio i ragazzi dei canali telegram ricordo bulldozer darts dove scriviamo solo io e francesco per dare notizie o cose varie bulldozer darts che dove scrivete tutti possiamo scrivere tutti per farsi domande per se qualcuno vuole seguirmi su instagram evan ziraldo su twitch non ho ancora fatto ancora cominciato ma effettivamente c'è un po di fastidi è il canale youtube che è questo qui bene saluta a tutti grazie a tutti